Questa è una verità che spesso tendiamo ad ignorare. Fare pausa, riposare è un momento fondamentale della produttività, tanto importante quanto il momento del lavoro effettivo. Più il compito che svolgiamo è intenso, difficile, più il nostro cervello ha bisogno di riposare e di recuperare e lo studio è un'attività che ci mette veramente alla prova. Tuttavia, gestire le pause è particolarmente difficile perché da un lato tendiamo a cadere nella procrastinazione, nel rimandare, nel fare i cazzoni e dall'altro, ossessionati dalla voglia di arrivare al nostro obiettivo, dalla necessità di raggiungerlo più in fretta possibile, tendiamo a ignorare i segnali di allarme e chiederci troppo, spingerci troppo oltre. In questo video scopriamo quali sono i tipi di pause, che funzioni hanno e come gestirle. Per prima cosa possiamo dividere le pause in tre categorie principali. Numero uno, la vera pausa. Numero due, il cambiare, alternare attività. E numero tre, il sonno. La pausa vera e propria, il rilassamento totale, è il momento in cui il nostro cervello stacca da qualunque tipo di attività che sia pesante o in qualche modo produttiva. Quindi un momento in cui ovviamente non stiamo studiando, ma non c'è neanche lavoro, non c'è dibattito, non c'è ragionamento, nulla che possa mettere alla prova e far girare le nostre rotelle cerebrali. Solo relax e tranquillità, cazzeggiare senza impegno, ascoltare un po' la musica, rilassarsi sul divano, farsi una passeggiata, mangiare o bere qualche cosa, cose di questo tipo. Il cambio di attività invece è l'alternanza tra il nostro compito principale, quello che stiamo portando avanti, e qualcos'altro che di solito è meno faticoso, meno pressante, ma che anche ha una soddisfazione, un elemento di gusto personale che ci piace particolarmente. Una buona lettura, un hobby, un passatempo, l'uscire con gli amici, il giocare, tutte cose che ci piacciono, ma che non sono completamente rilassanti. Infatti questo tipo di pausa è meno impattante a livello di riposo per la nostra mente, ma ha un effetto positivo o benefico incredibile sulla nostra generale salute mentale, sulla motivazione, sullo stato psicofisico e sull'umore. E infine il sonno, che è talmente importante, talmente fondamentale per il processo di apprendimento e anche per la produttività in generale, che ci ho già fatto un video che trovate qui dove c'è tutto quello che dovete sapere e vi invito a recuperarlo perché oggi ci accenno soltanto. Prima di spiegarvi esattamente come portare avanti queste tre modalità, prendiamoci un minuto per capire esattamente quali siano gli effetti benefici del riposo. Il primo motivo è quello di permettere alle informazioni che abbiamo acquisito di rimanere in memoria e di liberare nuovo spazio per imparare qualche cosa di nuovo. Devi immaginare lo studio come andare in palestra e sollevare pesi. Non è che i tuoi muscoli crescono davanti allo specchio quando tu grugnendo sollevi e pompi ghisa, ma crescono dopo averlo fatto, in virtù proprio dello sforzo e della fatica che hai messo nell'attività, crescono a riposo. Lo stesso succede per l'apprendimento e per lo studio. Noi sforziamo il cervello, lo mettiamo alla prova, lo nutriamo di nuove informazioni da comprendere, rielaborare e digerire in qualche modo e poi durante il riposo queste informazioni si consolidano e si trasformano in vere conoscenze e competenze. Inoltre è proprio nella fase di riposo che il cervello si prepara, libera spazio e si fa pronto per imparare qualcosa di nuovo il giorno successivo e quindi senza riposo non esiste apprendimento di nessun tipo. Punto. Il secondo motivo per cui dobbiamo fare pausa è evidente perché ci stanchiamo, diventiamo sempre più stanchi e più andiamo avanti nel nostro studio e nella nostra attività anche lavorativa e più questa stanchezza si trasforma in difficoltà di rimanere concentrati finché non arriviamo al punto di essere così stanchi che non ce la facciamo più ad andare avanti. E fin qui tutto è chiaro, tutto è evidente potresti dire tu, ma c'è un cambio di prospettiva che devi assolutamente fare. Noi non vogliamo riposarci quando arriviamo al momento della stanchezza eccessiva, quando siamo distrutti, vogliamo riposarci prima che questo accada per prevenire quella stanchezza in primo luogo. Anche qui usiamo una metafora, è come con l'alimentazione, tu non mangi, non ti nutri esclusivamente quando stai morendo di fame. Giusto? Terzo motivo per fare pausa è non accumulare lo stress oltre un certo limite. Lo stress in piccole dosi può essere addirittura anche una spinta, ma quando supera un limite e si accumula nel tempo arriva a trasformarsi in malumore cronico fino ad arrivare al burnout, all'esaurimento totale. E fidati di me, non vuoi arrivare a quel punto. Quarto e ultimo motivo per riposare, per fare pausa, è quello di permettere al cervello di entrare in quella che viene definita modalità diffusa, un diverso modo di ragionare, di pensare, di affrontare i problemi. Quando il cervello lavora su una certa informazione, un certo problema, una certa questione, in background, facendo altro nello stesso tempo. E questa modalità, alternare questa modalità con la classica focalizzazione, è il segreto per scatenare al massimo livello tutta la tua creatività, la tua capacità di risolvere problemi e affrontare quello che stai studiando da un punto di vista diverso. Cosa che diventa sempre più importante, tanto più l'argomento che stai studiando è difficile e complesso. Anche qui ci ho già fatto un video sopra e quindi ti consiglio di andare a recuperarlo. Ed eccoci qua, come gestire queste tre categorie di pause nel nostro andare quotidiano, giorno per giorno. In realtà è piuttosto semplice. Numero uno, la pausa vera e propria va alternata continuamente al tuo studio quotidiano e alle tue attività. E quindi torno a consigliarti la classica tecnica del pomodoro, quindi 25 minuti di studio, 5 di pausa completa, assoluta, di rilassamento. Oppure il pomodoro doppio, 50 minuti di studio e di concentrazione, 10 minuti di pausa. Puoi anche mescolare tra di loro queste diverse modalità, il pomodoro e il pomodoro doppio, o trovare anche delle cose intermedie che si adattino meglio al tuo modo di funzionare, alla tua produttività personale. Ma in generale non andare mai oltre i 50 minuti, non farlo, non chiederti troppo rispetto a queste pause e inoltre cerca di tenere almeno un giorno alla settimana completamente libero dallo studio per riprenderti. Numero due, l'alternanza di compiti e attività si può interpretare in vari modi, ma io ti consiglio di tenere almeno un'ora al giorno, tutti i giorni per un'attività che ti piaccia, per una tua passione, un tuo hobby. E lo so che non è sempre facile, abbiamo delle scalette che a volte ci costringono a lavorare in maniera veramente intensa, ma questo ha un effetto positivo incredibile sul nostro umore, sulla nostra capacità di resistere alla pressione dello studio per lunghi periodi di tempo. E numero tre, infine, il sonno. Devi dormire tanto bene e in maniera regolare. Lo abbiamo detto tante volte, tra le sette ore e mezza e le nove, tutti i giorni, possibilmente di sonno bello profondo, bello intenso e di tenerlo più o meno sempre negli stessi orari. Quindi andare a letto sempre alla stessa ora e svegliarsi sempre alla stessa ora. È difficile, ma gli effetti positivi sono sostanziali. Combina insieme queste tre modalità, dedica il giusto tempo, la giusta attenzione alle pause, rispetta la tua mente e vedrai la tua capacità di studiare, di rimanere concentrato, alzarsi a livelli pazzeschi. Pianifica le tue pause, pianificale per non finire ad utilizzarle come scuse per abitudini pigre o per la procrastinazione e utilizza app e timer per darti una struttura facile da seguire, in modo da non doverti affidare troppo alla tua forza di volontà. Evita anche di fare l'errore opposto, di sopravvalutarti, di crederti un robot. Ti posso sentire a pensare almeno una volta ogni tanto, ce la posso fare, io sono più forte di così, non ho bisogno di riposare. Sbagliato, ne hai assolutamente bisogno, smettila, rimani umile e fai pausa. A questo punto naturalmente voglio sentire da voi le vostre abitudini riguardo alle pause, come fate pausa, come inserite le pause nel vostro studio, nel vostro andare quotidiano e poi se volete imparare a gestire al meglio i tempi dello studio non posso che consigliarvi come sempre il mio videocorso Sistema ADC dove affronto tutto il metodo di studio, compresa la gestione ovviamente del riposo. Io sono Alessandro De Concini e questo era ADC 2.0. Vi parlo tutti i giorni di apprendimento, metodo di studio, cognizione e produttività sulla mia pagina Facebook Alessandro De Concini ADC, su YouTube, su Instagram e su tutti i canali social. Non dimenticare di iscriverti al canale, lasciare un mi piace, un commento e condividere questo video con tutti quelli che potrebbero trovarlo interessante. Noi ci vediamo domani per un prossimo video e nel frattempo fai pausa. Ciao!